Un bel giorno, senza dire niente a nessuno, me ne andai dal benzinaio, perché avevo optato per il mare. E là, mi imbarcai su una barca a vera battente bandiera Kuwait. Feci tre volte il giro del mondo, ma non riusci mai a capire che cavolo trasportasse quella barca. Ma forse un giorno lo capì. Benzina.